E salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ARA e benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere dei miei nuovi lavori custom sicuramente la protagonista di questo video è questa testa qui del Goku Super Saiyan 2 che intravedete in lontananza però prima volevo iniziare con questo che è un semplice repaint della testa Super Saiyan appunto della nuova versione del Goku Super Saiyan God Blue ed è proprio questa appunto però la cosa diciamo figa è che ho ripreso in mano finalmente l'aerografo ragazzi e come vedete sono riuscito a dare queste fantastiche sfumature che tanto mi chiedevate e devo dire che rendono veramente bene l'aerografo è assolutamente il modo migliore, perfetto per dare questo tipo di sfumatura e secondo me ragazzi questo scalpo ovviamente di capelli del Goku Super Saiyan Blue trasformato nel classico Super Saiyan con capelli gialli rende veramente veramente benissimo ovviamente poi ho ridipinto il viso serio, tutti i visi chiaramente c'è anche qui questo qua urlante e questo qui con i denti invece di grignati e poi abbiamo l'altro sorridente che ovviamente è montato sulla testa del Super Saiyan 2 perché secondo me è il viso caratteristico diciamo di quella trasformazione comunque volevo farvi appunto vedere questo repaint dei capelli di cui sono veramente molto soddisfatto comunque abbastanza semplice da fare però rende veramente bene quindi io ho un bel po' di copie disponibili di questo Goku God ragazzi con i capelli blu chiaramente se volete con un costo aggiuntivo non troppo elevato posso tranquillamente trasformarvelo in questo Goku Super Saiyan quindi nel caso non fatevi problemi contattatemi con i contatti che trovate qui sotto in descrizione prima di andare a vedere quella testa ragazzi vi volevo ricordare che solo fino alla fine di questa settimana sul sito è attivo il codice sconto ara 20 tramite il quale potrete ottenere uno sconto del 20% su tutte le figure disponibili sul mio sito appunto quindi vale solo per quelle subito disponibili e ora ragazzi andiamo a montare la testa del Super Saiyan di secondo livello pronta lì dietro eccoci qua ragazzi molto molto facile da montare ecco qua il nostro Goku Super Saiyan 2 finalmente allora ragazzi realizzare questo sculpt non è stato assolutamente semplice come vedete anche qui ho fatto delle sfumature spero si riescano a vedere anche se il video è molto luminoso comunque dicevo non è stato affatto semplice vi faccio vedere come al solito il progetto al pc che ho scolpito tramite il programma Blender completamente da zero ragazzi ci tengo a precisarlo è uno sculpt originale mio della mia visione diciamo personale del Super Saiyan 2 ovviamente ho preso delle immagini come riferimento in particolare questa immagine qui che secondo me è il Super Saiyan 2 di Goku per eccellenza o almeno per quanto mi riguarda ho cercato di prendere diciamo ispirazione da quell'immagine e di correggere anche ciò che non mi piaceva come al solito ragazzi ci sono stati molteplici tentativi a cominciare da quello in cui avevo pensato di fare appunto la testa come sempre con la parte frontale smontabile come diciamo di solito è per tutte le Sage Fever scusate per la messa a fuoco un po' schifosa ok però ho capito che non c'era assolutamente bisogno ragazzi perché tramite questa testa del Super Saiyan 2 e per il fatto che diciamo alla fronte è molto alta è facilissimo staccare il viso in questo modo senza bisogno che si stacchi nessuna parte della testa e questo diciamo mi ha semplificato un pochino il lavoro che comunque è stato molto molto difficile per rimettere la testa non ci vuole assolutamente nulla eccola qui già montata quindi è molto molto semplice intercambiare la testa anche se non si smonta intercambiare il viso volevo dire anche se non si smonta nessuna parte della testa avevo pensato di smontare il ciuffo ma ripeto è inutile perché è molto molto semplice la sostituzione continuando ancora ragazzi questo è per esempio un altro tentativo e la testa come vedete è nettamente più grande i capelli sono più grandi ma secondo me la dimensione corretta è questa qui se non forse è ancora più piccola ma non credo penso che proprio la dimensione corretta sia questa ve lo faccio vedere anche un po' di profilo dato che non ve l'ho fatto ancora vedere comunque su Instagram, su Facebook ho pubblicato un po' di foto anche e poi ragazzi volevo farvi vedere la difficoltà della progettazione in 3D guardate questa testa qui cosa è successo? c'è praticamente non so se si riesce a vedere sì ecco c'è praticamente una riga vuota in mezzo a tutta la testa e questo a cosa è derivato? io non ho sbagliato un sacco di cose nel progetto quando è stata stampata questa testa ma ragazzi pensate un po' ho sbagliato solo un puntino in tutto il progetto e questo è stato il risultato che ha dato la stampante una testa con questa riga scavata in mezzo pensate per un solo punto quindi bisogna essere precisi al massimo al millimetro per non parlare ovviamente della difficoltà di cercare di far incastrare perfettamente il viso e sage figures in questa testa appunto che è stata anche quella una bella fatica e chiaramente oltre questi altri tentativi c'è stato anche il tentativo di painting questa era un'altra versione ancora della testa che come vedete aveva il ciuffo centrale più lungo ma non mi piaceva per nulla però l'ho usata per provare un po' diciamo le abilità con l'aerografo e diciamo che me la cavavo abbastanza bene nonostante non lo toccassi da forse un paio d'anni fortunatamente sono riuscito a mantenere la mano non so come comunque ragazzi ovviamente vabbè la testa come avete visto rimovibile è articolata perfettamente non c'è alcun problema fatemi sapere cosa ne pensate di questa testa Super Saiyan 2 ovviamente volendo posso realizzare anche questa testa per voi chiaramente per il Super Saiyan 2 magari ci vorrebbe un corpo con la cintura senza le fasce senza i simboli posso realizzare qualunque cosa ragazzi io adesso l'ho appoggiata su questo corpo che comunque è fighissimo anche così però volendo naturalmente si può realizzare anche una custom più precisa per quanto riguarda il corpo però diciamo che secondo me avere già per esempio un Goku con questi capelli più questa testa Super Saiyan 2 su questo corpo ad un prezzo neanche troppo elevato perché comunque si tratta solo di aggiungere questa testa e di ridipingere i visi lasciando diciamo il corpo intatto secondo me viene veramente una figata avere questo Goku con la doppia testa intercambiabile perché poi invece i visi sono gli stessi per entrambe le teste quindi posso realizzare anche questo se volete diciamo una versione esclusiva del nuovo Goku Super Saiyan God Blue e perché no si potrebbero anche ricolorare questi capelli del Goku Super Saiyan 2 per esempio di blu avendo un Goku Super Saiyan God Blue di secondo livello insomma ragazzi le possibilità sono infinite fatemi sapere ripeto se vi piace questo io ci ho messo veramente tanto impegno per farlo uscire così naturalmente la varietà diciamo dello scalpo del Super Saiyan 2 della forma dei capelli è incredibilmente vasta per esempio qui vedete sulla parte laterale io ho messo due ciuffetti ma si potrebbe anche mettere un solo ciuffetto io ho preferito questo perché si adattava meglio al viso della SH Fever con un solo ciuffetto rimaneva un po' troppo scoperto sulla fronte il ciuffo centrale si potrebbe fare più corto più lungo ancora insomma ragazzi le modifiche sono infinite io posso fare quello che volete praticamente quindi veramente sbizzarritevi qui sotto nei commenti like al video e anche al mio lavoro è veramente graditissimo così come anche la condivisione detto questo noi ci vediamo alla prossima ciao Dara dal Goku Super Saiyan secondo livello collezionate sempre grazie a tutti